Speriamo che sia un'interessante iniziativa a beneficio dei cittadini. La velocezione sarà aperta 24 ore su 24, è completamente automatizzata e la parte più interessante è che all'interno c'è una vera e propria ciclofficina che potrà fornire servizi di manutenzione e di assistenza alle persone che lasceranno la bicicletta all'interno della velocezione. AMS, che è la municipalizzata del comune di Gallarate, gestisce la struttura, ha individuato un professionista che si occupa della ciclofficina proprio per riuscire a dare dei servizi in più alla cittadinanza. Allora, sì, io sono presente dalle 7 del mattino fino alle 12 e poi nel pomeriggio dalle 15 alle 17. In questi orari, chiaramente, essendo presente, ho un po' tutto il sistema sotto gli occhi vigilanti. Chiaramente darò un'assistenza, questa assistenza è o mensile, in base alla cifra mensile o annuale, che io darò un servizio supplementare di assistenza minima sulle biciclette. Oltre questo, chiaramente, andrò a verificare se c'è qualche problema e farò presente al cliente un problema che magari può essere pericoloso e da poter sistemare, chiaramente, questo a parte. oltre questo, sarò qua presente anche per le persone anche da fuori che hanno bisogno di sistemare la bicicletta, sempre in questi orari qui, sarò presente. Anche con servizio di recupero nell'arco della giornata della bicicletta in altri luoghi? Sul mensile e sull'annuale con servizi ci sarà questa possibilità, comunque, in giornate di andare a recuperare un mezzo su gallarate. Se uno ha bucato la gomma, gli si è ruota la catena e si è tratto a venire recuperato. Chiaramente leggerà una bici e dovrà portarmi una chiave perché sennò diventa difficile andarla a recuperare.